In occasione del G7 Mirabelle Clano per i giorni 2, 3 e 4 ottobre è stato varato un imponente piano di sicurezza che interessa i comuni di Sorbo Serpico, Atripalda, Mirabelle Clano, Venticano, Grotta Minardo e Sturno. Per incrementare i livelli di sicurezza sono state predisposte diverse misure al termine di un'attenta analisi fatta tra forze dell'ordine e istituzioni coinvolte dai sindaci ai gestori delle infrastrutture stradali. Per il comune di Sorbo Serpico è stata disposta la chiusura al traffico veicolare, fatta eccezione per gli autorizzati, dalle 8 alle 24 del giorno successivo lungo alcuni tratti della strada provinciale 17. Per il comune di Atripalda l'interdizione riguarda la strada provinciale 246 fino all'intersezione con la provinciale del comune di Sorbo Serpico. Il divieto di sosta è fermata lungo le strade elencate in tabella che potete meglio consultare sul sito www.telenostra.tv Comuni di Mirabelle Clano e Venticano, la chiusura al traffico veicolare pedonale dal 2 al 4 ottobre lungo le strade in tabella, strada statale 303, strada statale 90 delle Puglie. Il divieto di fermata è di sosta nell'area di parcheggio in via Bosco San Prisco destinata ai dipendenti, area di servizio Mirabella Est. Comune di Grotta Minarda, il divieto di sosta è fermata al di fuori degli stalli sull'ex strada statale 90, tratto interno del centro abitato. Comune di Sturno, il divieto di sosta è fermata dalla contrada Sterparo alla strada provinciale 38 con strade riportate in tabella. Divieto di manifestazione dalle 24 del 2 ottobre fino alle 23.59 del 4 ottobre o comunque sino a cessate esigenze. È fatto divieto di manifestazione in luogo pubblico aperto al pubblico nei comuni di Mirabelle Clano e Sorbo Serpico. È stata interdetta dalle 13 del 1 ottobre alle 24 del 4 ottobre l'attività di trasporto di armi e munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti sul territorio di Mirabella, Ariano, Grotta Minarda, Pietra De Fusi, Sturno e Sorbo Serpico. Analoga interdizione è stata assunta per l'accensione di prodotti pirotecnici. In questo contesto, inoltre, la Regione Campania ha disposto dal 2 a 4 ottobre la sospensione dell'attività venatoria sul territorio provinciale, compresa l'interruzione della mobilità venatoria dei cacciatori residenti in provincia di Avellino verso altre province. Le misure di sicurezza adottate potranno determinare alcuni disagi ai residenti o agli operatori economici, ma attesa alla rilevanza dell'evento si chiede uno sforzo condiviso. Sul sito della Prefettura, sezione G7, riunione dei ministri dell'interno, sono consultabili le ordinanze esplicative pubblicate anche sul sito telenostra.tv.